La prima cosa che dobbiamo dire alla donna che ha partorito da poco e che dunque allatta è che per i primi tre mesi dopo il parto, se lei allatta in modo esclusivo, presumibilmente l'ovulazione non avviene, di conseguenza è presumibile che non corre il rischio di gravidanza in questi primi tre mesi dopo il parto. Se invece l'allattamento prosegue dopo i tre mesi, anche in modo esclusivo, ma qui il discorso comincia a essere un po' più difficile da mantenere, intendo dire il modo esclusivo dopo i primi mesi dal parto, l'ovulazione può avvenire e qui subentra la necessità di un metodo contraccettivo. Il metodo contraccettivo ottimale è la pillola di solo progestinico che permette da un lato alla donna di bloccare l'ovulazione in modo sistematico e dal bambino di non riceverne nessun danno. La quantità del latte non viene affatto influenzata da questo progestinico e di conseguenza la donna lo può utilizzare anche per un anno o per più tempo. Addirittura ci sono donne che poi, contente di questo metodo contraccettivo poco impegnativo per l'organismo perché manca dell'estrogeno, lo continuano anche per anni.